Settimane e grazie al sostegno di tanti romani che stanno alleviando la loro sofferenza, stanno riuscendo a farcela, se avete visto la situazione è veramente difficile, veramente disperata. È arrivato un messaggio di Daniel, organizziamo un concerto, organizziamo una maniera di stare insieme, di fare della musica per condividere questo momento, questo bellissimo attestato di solidarietà e di amicizia di tanti cittadini di Roma, dei volontari, delle persone che stanno portando ogni giorno ogni cosa qui al Baobab, c'è un sito su Facebook che è Amici del Baobab dove ogni giorno fanno la lista di quello che realmente serve, perché sennò c'è il rischio che si portino troppi vestiti o troppo cibo o poco sapone, quindi è importante lì coordinarsi. C'è la mediatrice culturale, se no loro non capiscono. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti.